Il comune di Corbara acquisterà i computer che sono stati sottratti agli allievi della scuola di via tenente Lignola. Dall'annunciarlo il sindaco Pietro Pentangelo, che si è detto amareggiato per il furto messo a segno nei giorni scorsi presso l'istituto scolastico, e ha anche comunicato l'intenzione dell'amministrazione comunale di reperire i fondi per l'acquisto di tutti i PC24, quelli che erano stati sottratti. Mi ha ferito particolarmente vedere i locali della scuola segnati dalla presenza di una mano esterna che ha asportato decine di computer, che erano di fatto un elemento fondamentale per l'educazione e per la didattica dei bambini, è qualcosa che lascia un segno brutto. E devo dire che subito è partito una sorta di mutuo soccorso tra i cittadini e le associazioni che hanno offerto la loro disponibilità a fare quello che era nelle loro facoltà per poter promuovere il riacquisto. Io ritengo che sia giusto che con il beneplacido e con il permesso dell'autonomia scolastica, della dirigente scolastica, che è poi ovviamente il primo elemento che deve giudicare in questo senso, io con il Comune ho messo a disposizione tutti i fondi che posso mettere a disposizione, primo tra tutti lo stipendio del sindaco del 2015, perché ritengo che sia una cosa giusta. L'azione che questi uomini hanno fatto verrà giudicata da chi di dovere.